È una cosa incommiabile il desiderio di venire ad essere un volontario di una manifestazione, mettersi a disposizione di una gara ciclistica e attraversare la Svizzera per poterlo fare a livello proprio di volontario è veramente una cosa eccezionale, quindi veramente ci sono poche parole da dire più che un grande grazie. Benvenuti a tutti i volontari, siate volontari, alle volte può essere più soddisfacente poter dare qualcosa che ricevere, e semplicemente mettersi magari alle volte su un incrocio con una bandierina rossa e garantire la sicurezza a chi passa a piedi o in bicicletta, nel caso del ciclismo, del podismo, ma anche di altre manifestazioni, regala comunque delle buone emozioni. Merci beaucoup a tous les bénévoles qui viennent au ZD. Vielen Dank für alles Helfer. Erste Willkommen und wirklich ist ganz schön was Irma. Danke.